Dedicato ai giovani d'oggi, alla meglio gioventù ma anche alla peggio, sì perché il futuro è loro nel bene e nel male e per farsi carico di questa eredità bisogna essere pronti, serve sensibilità, istruzione, anche disciplina, tutti i valori che vengono trasmessi dallo sport. E così eccoci ad oggi nella cornice dello storico Palazzo Cordellina in centro storico a Vicenza, dove va di scena il convegno organizzato dalla Federazione Italiana Rugby. Nel titolo c'è già la domanda, disagio giovanile, sport e scuola, quali soluzioni? Le risposte certe non ce ne sono, il fatto che i ragazzi si discostino dallo sport, il fatto che i ragazzi si discostino dall'attività scolastica, il fatto che si stia sempre di più in un mondo virtuale, digitalizzato, che allontana i ragazzi da quello che è la realtà, da quello che è la socialità, tutto questo si stava già verificando. Un processo che era già iniziato prima della pandemia, un lento ma inesorabile abbandono dello sport e dei suoi valori da parte dei giovani. Dove sono andate a finire? Quindi sono o a casa, soli, davanti allo smartphone, oppure sono in giro per le strade. E abbiamo letto tutti quanti episodi di vandalismo, di spaccio di droga, di risse, fatti da adolescenti che erano cose che non erano mai successe. Dalle famiglie alle scuole fino alle società sportive, bisogna attivarsi per recuperare i giovani allo sport. All'interno di un campo sportivo c'è un allenatore che ti insegna delle cose e ti dà delle regole. E se tu vuoi partecipare a quel gioco devi sottostare a quelle regole. Sappiamo bene purtroppo come effettivamente sta andando all'interno delle scuole, dove gli insegnanti hanno chiaramente perso molto di autorità. Ma la collaborazione assieme agli allenatori può veramente formare dei ragazzi che dopo anche a scuola avranno rispetto del loro insegnante. La sfida è lanciata, ma come far tornare i giovani ai valori dello sport? Lanciamo una proposta al mondo della politica. Ho pensato che se gli insegnanti di educazione fisica, visto che le scuole non hanno grosse strutture per praticare tutte le discipline, vengono spostati all'interno delle società sportive e portano tutta la loro competenza e la loro capacità. I ragazzi possono fare minimo 4-6 ore a settimana di attività sportiva. Le società sportive certificano al mondo della scuola l'attività che ogni singolo alunno ha fatto all'interno della società sportiva che ha scelto.